Salve a tutti, sono Elena e ciao Jacopo, complimenti vivissimi per il premio che stai ricevendo, sono davvero molto molto contenta per te, per tutti i tuoi successi e spero che anche tu sia felice e che ti senta bene anche in Italia e ti auguro ogni bene per tutto ciò che dovrà venire e sono davvero molto fiera del tuo percorso e di tutto il lavoro che so che so che ci hai messo e sono molto contenta che sempre più persone possano apprezzarti e apprezzare la tua arte e avanti così, sono davvero davvero felicissima per te e spero che lo sia anche tu e sono sicura che rendi felice anche molte molte altre persone, quindi buona celebrazione a tutti e buona giornata e un abbraccio forte!